Sformatini di verza super semplici da preparare, fatti negli stampini per i muffin. Sono una variante dei tradizionali involtini di verza, io metto all'interno bechamel molto densa, formaggio, prosciutto cotto e parmigiano. La preparazione è davvero veloce e guardate qua, otterrete degli sformatini monoporzione perfetti. Come sempre la ricetta su siciliani creativi e buon appetito!